La giunta di Ravenna ha varato in una delibera il nuovo piano di contenimento delle nutre al Parco Teodorico. Ha provato in sostanza il piano presentato dall'OIPA di Ravenna per la cattura e la sterilizzazione degli animali senza l'abbattimento che aveva creato proteste raccolte firme nei mesi scorsi a Ravenna. Un movimento di protezione degli animali che aveva portato a sua volta ad un acceso di battito in città. Sarà l'OIPA stessa a farsi carico del nuovo piano di contenimento, sia da un punto di vista operativo, sia da un punto di vista economico. Le nutre verranno catturate con apposite gabbi ideati per cercare di ridurre al minimo lo stress dell'animale per poi essere trasferite nella sede dell'associazione Amici della Pineta San Vitale Piallasse Ravenna. Dopo la sterilizzazione, che verrà praticata da un veterinario, gli esemplari verranno marcati e terminato il periodo di degenza verranno trasferiti al centro il Pettirosso di Modena dedicato alla fauna selvatica dove verranno liberate. Sembrerebbe una vittoria per gli animalisti ma la realtà è invece ben diversa. Al parco Teodorico infatti vivevano una trentina di nutrie, oggi sono solamente tre, forse quattro. Delle altre i volontari dell'associazione non conoscono il destino. Alcune sono state avvelenate, altre sono state abbattute come previsto dal piano regionale di controllo. I numeri però non si conoscono, sono stati ufficialmente richiesti in regione ma una risposta non è ancora stata ricevuta. In questi mesi, inoltre, chi è sceso in campo per difendere i roditori ha sempre chiesto che gli animali rimanessero all'interno del parco Teodorico. Ora, invece, il comune di Ravenna attende i nominativi dei volontari che si occuperanno del censimento delle bestie sopravvissute e della cattura. La prossima estate il parco Teodorico potrebbe quindi essere senza nutrie.